Vabbè, ci siamo, dai, vogliamo pullare un pochino Vediamo che cosa esce fuori Sperando bene No, no, che pullo sui ticket, raga, pullo i ticket e poi le stone Eh, raga, me le stone me le finisco tutte su 300 Ma che devo fa' Sto risperato come, come, non so cosa Come la morte Guarda qua, adesso è proprio una merda Vabbè, vabbè, vabbè Vado, signori, va bene, ci siamo tutti Pure tu, Angelo, ci sei? Ci siamo, ci siamo Vai, mi sparo sti ticket, mi sparo da Gohan Se poco poco sculiamo In modo eccezionale Ma che è? Ma che è sta soundtrack? Ma che è sta soundtrack? Ma che è sta soundtrack? Ma lo posso dire che è un po' bruttina Lo posso dire, oppure qualcuno Qualcuno, insomma, si offende Se dico che è un po' bruttina Questa soundtrack ti tocca Ma infatti quando non parte è meglio Molto meglio Molto meglio Molto meglio Posso dire che è un po' bruttarella A fare non lo so Quando qua fuori passano Come si chiamano No, i fuienti Come si chiamano? I zambugnare I zambugnare Non lo so, veramente Non lo so, ragazzi Non lo so, non lo so Mi fa un po' pena Però vabbè Non me l'aspettavo Vi dico la verità Ovviamente come dicevo Non lo sapevo Perché Non lo sapevo E si parte subito Alla grande Comunque Ami, ami Perfetto Videl Trunks e Goten Niente Va bene Ok Meglio quella di prima parte Sì, ma quella di prima parte Che era Aspetta Non me la ricordo Ma Mi pare che era già No, Maurizio Impazzito totale No Impazzito totale No Di nuovo No Ami, sa la musica La canzone No Sì, sì, sì Di nuovo Ha fatto anche Il mio compleanno No 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 No, la canzone Io Sul mio canale L'ho punito Ho disattivato La musica No No, ma vai A me il problema È quale canzone Però ha messo Mamma mia Mamma mia Voi la sento Anche io Da Discord Mamma mia Grazie, Maurizio Grazie per i 100 bits Intanto Grazie anche per l'alert Mannaggia Grazie per Mille Quanti ne sono Mi ricordo Grazie Rai Grazie per i Due Guarda, Maurizio Se veramente la trovo Metto Non ci credo Non ci credo Ma che cazzo Stavi dicendo Scusa Stavo dicendo Meglio che non l'ho detto Ma meglio che non l'ho detto Mi stavo facendo Un debito Con la bocca Enorme Enorme Me lo stavo facendo Il debito Con la bocca Dio santo Meno male Che non l'ho detto Lo devo dire Lo devo dire Stavo per dire Se trovo veramente Gohan La permametto Dua notte Prima del dual fest Quando pullo Ma che cazzo Ma forse si è andata A musicare e pull Sta canzonà sotto Guarda Tra l'altro Secondo me Qua ci stanno Due LR Non ci credo Impossibile Sono sette personaggi Sono dei ticket Merdosissimi Vedi vedi Maurizio Ma io Oltre la Black Rift C'erano anche Crin e C18 Veramente E già Ma mangio È impossibile È impossibile Ma raro ragazzi Io non voglio immaginare Il bordello Che si sta sentendo In live Comunque Fra la canzone Di Doc Nesta canzone E sta la musichetta Mannario No no Vedi che non c'è sta Vedi Vedi che è tranquilla Stiamo andando Troppo oltre Minchia ma la sto mettendo Prova all'ultimo PG Oh Ma questa All'ultimo Eccolo Cante ancora Nostro Na 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 Notte di chat Tu oltre Sognando Pulle poca Ormai mi sono messo Pure io A cantare Convertito Completamente convertito Ti rendi conto Capisci un attimo A che punto Siamo arrivati Bellissimo Signori Bellissimo 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 Questa è stata La sofferenza Della prima parte Ora però Si fa sul serio Anzi vorrei dirvi Fa sul serio Ora invece si va proprio Di accademia Ora si finiscono Tutti KK Si pulla tutti KK Grazie Maurizio Grazie mille per i 100 bits L'ho fatto bene Allora dai grazie Grazie All in All in All in signori All in Vi faccio la sor Lo faccio per voi Vado all in Back to back Vai subito Non facciamo Non facciamo perdere Il momento Facciamo Scadere il momento Vai Let's go Ci siamo All in 300 stone Di ben 300 stone Ragazzi Però Abbiamo dimostrato Che Possiamo trovare I personaggi Anche con Zero stone Certo Abbiamo dimostrato Anche che Possiamo non Trovare I personaggi In 2000 E passa stone Anche quelli Grazie Maurizio Grazie ancora Per i 100 bits Ma solo Angelo È così Sfortunato Quando puro Il live Povero Angelo Abbiamo fatto Delle pullate Belle atomiche Pure lui No Però lui ci prova A donarmi E farmi sculare Ma non ci riesce Però Però credo Che ti sia riuscito Qualche volta Matematicamente È impossibile Che non sia andata Si suda Si suda sempre Ogni volta Sì Sì Ma io infatti L'ho detto Guarda A me Il fatto che mi sia beccato Quella botta assurda In prima parte Per me Però l'ho presa bene Ma perché l'ho presa bene Perché io sono stato Consapevolissimo Che io Dall'anniversario E sai benissimo Tutto il casino Che c'è stato A cui Dockan Global Insomma Ci ha messo Che meme Broly AGM Eh Pensa te Ormai questo L'ho portato da ability full Per la terza volta Forse Per la seconda Per la terza volta Fortunatamente Sarà Broly Tech Probabilmente Sì Cioè Sarà a prescindere Broly Tech Sarebbe ancora meglio Se fosse proprio La conclusione Ancora meglio Proprio se fosse A conclusione totale Che vorrebbe dire Che troviamo pure Broly Int Sì Mi vedo Broly Int Ci continuo Ci provo Io ci provo Assolutamente Grazie Demi Mio Grazie mille Per i 23 mesi Caro E bentornato Grazie davvero Segna sto 4 a 0 Bro Per il momento 2 a 0 Anzi 3 a 0 3 a 0 Potenziale Nonostante tutto 3 a 0 Ce l'abbiamo Al momento Dobbiamo fare Solo il 4 a 0 Ragazzi Manca Manca pochissimo Manca poco Serve la canzone Diciamo che Preferirei Preferirei Evitare Giusto per le mie orecchie Prima di fare L'altra multi Prendi la seria La sedia Girala 5 volte E risiediti Signori Va bene Qua qualunque cosa Grazie per il bizzo Comunque Maurizio Grazie davvero Guan Draghetto Perfetto Ancora senza Ezza Tra l'altro Sì Sì Allora Siete pronti? Lo faccio E' 1 E' 2 E' 3 E' 4 E' 5 Signori Subito Vai Subito 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 In scia Dobbiamo andare in scia Oh poi sai che ti posso dire Angelo Che bellezza Lo dico a tutti Che bellezza Che io In realtà non è vero Perché io prima avevo detto Cazzo Per me Sta messo Paradossalmente Meglio il banner di Gohan Piuttosto che di Broly Perché poi mi ero reso conto Che c'erano sia Gohan Ultimate Che Gohan Int LR Che potevo Che mi mancano del tutto Invece però C'avevo il dispiacere che Da Broly C'è sta Goku Terzo Che mi interessava tantissimo Eh Pure a me Sono felice da un lato Perché sto pullando qua Che c'è sta pure Goku Terzo Però dall'altra parte Poi dico Cavolo Vediamo Vai Dicendo cavolo Però dall'altra parte C'era la possibilità Infatti pulerei Gohan Se fossi in te E Bro Se fossi in te Perché E che cosa E devo Ma guarda è andato bellissimo Ah sti cazzi abiliti Bro ma In realtà è proprio questa La risposta che io ti do Sti cazzi dell'abiliti Anzi io ti do la risposta Sti cazzi dell'abiliti No bro Gohan È self sufficient Proprio Cioè Va proprio dritto Dritto per fatti suoi Va benissimo Gohan Sì guarda Ti posso dire È 4 Sì Ti posso dire Le accettiamo volentieri Ma questo è uno spoiler per domani Vi dicono che questo è uno spoilerino di domani eh Attenzione un attimo Dites e cacao Spoilerino per domani Io non ho detto nulla Grazie Lorenzo Grazie mille per i 35 mesi Caro bentornato Gianfra buonasera Pullato Roba buona Però Pullato roba buona Sì Pullato roba buona Una bella ravarata Vai Vai Con una bella mano sudata dei palle Vai Eh Oh Sì Oh 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 Scusa Oh 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 No Ma le palle Le palle Godiamocela Godiamocela Oh Ma 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 me sto esaltando per Ma queste Ma 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 Ho visto bene o non ho visto bene Io ho visto un dancing ma ho visto altri due Io non credo di essermeli sognati altri due insieme Assurdo Io non me li so sognati Angelo Non me li so sognati raga Non me li sono sognati In realtà In realtà Devi sempre bullare con me comunque Angelo si Dov'eri Dov'eri tu 15 giorni fa 15 quando erano Sta succedendo Signori Lo possiamo dire ufficialmente Il tabellino segna 4 Il tabellino segna 4 Cioè segna 3 ma segna 4 3 ma 4 Angelo Ma dove stavi Ma dove stavi Ma voi mi dovevate Dovevate esserci Eccolo Guarda quanto è bello Mamma mia Guarda la possenza Oh posso dirlo L'ennesima volta in cui L'artwork SSR Mi piace di più Quello dell'R E' bellissimo Quest'artwork Porca miseria Guarda Cioè con l'R Eppure sarà pure bello E' bello Però mannaggia la miseria Guarda Mi piace di più Così Mi piace veramente di più Che bellezza Signori che bellezza Abbiamo finito i KK Alla fine lo possiamo dire 2000 e qualcosa Stone Però tutti e 4 personaggi E ti posso dire Va bene Avrei detto Sì Avrei detto Ok Cioè ci sto Diciamo che questo è stato il caso Classico Di Quel che Bene Come cosa è Quel che Tutto è bene Quel che finisce bene Esatto Tutto è bene Quel che finisce bene Oh Oppure un bel topone Indicato L'unica SSR Da canvesso Che abbiamo trovato Da qui Voglio dire Voglio dirlo Voglio dirlo Che ignori E' bastato Sono bastate Vedete 150 stone Per chiudere un'intera parte Sono bastate Ah e facciamo Gohan Va bene Facciamo Gohan Ci sta più roba Gohan Ultimate Ti dico la verità Trovarlo così A casaccio Mi farebbe pure piacere Vai Gohan Effettivamente abbiamo dedicato Un giro di multi A Broly Dedichiamolo anche Un giro di multi A Gohan Oh 17 e 18 Vai Vai Pronti Mettiamo la combo Lo stesso No la musica L'avevo tolta io Ragazzi C'è la musica C'è la sentite No C'è il max No ma vabbè Bellissimo Ma non Ah no ecco E' lui forse Eh si Mi sa che 17 e 18 Può essere pure lui E' un featured Quindi Ok Un featured Eh 17 e 18 banner Quindi si Dai comunque Alla fine Ci pareggiamo Perché Bene che abbiamo fatto i ticket Però abbiamo fatto Giro completo Da Broly E ci facciamo un giro completo Anche da Gohan Va bene Ci può stare Ci può stare Ma allora Mi stavo cacando sotto Annaggia la miseria Ho visto sta silhouette Di sto Vegeta Ho detto Ma che cazzo è Non so Vai vai Mannaggia Ma sapete Per chi l'avevo scambiato Ma è impossibile Ovviamente Impossibile Per Vegeta Tech Ma quelle Do campeste Cioè Pensate voi Pensate voi Vai Feli vai Ora è il momento Feli Ah Goden Attenzione Questa Questa coppia strana Un po' atipica Un po' Capiamo Quella è R Per forza Quella è R Per forza Ma non c'è Ma completamente Senza senso Questa coppia Voglio rimettete la canzone In Giove Posto è stata Ma che vuol dire Ma non vuol dire niente Rimettetela subito Angelo 17 Goden Ma quale Quale relazione hanno 17 Goden Ma non lo so Ti insegnate A fare il ranger Durante la Ma non lo so Ma non lo so Continuiamo Perché ragazzi Abbiamo appena Praticamente startato La multi Questo era il primo PG Quindi Capace pure Che Goden C17 Qui dentro Un'altra LR Ancora Un'altra LR Ancora Grazie a morire Per 100 bits Toccate il bucio De culo E pulla Vai Toccate pure Il bucio Ormai Raga Abbiamo fatto Palle e culo Proprio Vai Una bomba Siamo messi Proprio una bomba Stasera Dopo il tablet Lo devo andare A disinfettare Proprio Molto bene Molto bene Ah è finita Qui no Questa Va bene così Va bene così Ma non è sceso Il max Ah no Non era finita Qui Gobun Kairo Ger Ma Ma Veramente Priva di senso Questa multa Con un'animazione Stupidissima Ma sai L'aveva effettivamente Ribaltata Recuperata La fusion Ecco La fusion Però Boh Mi poteva dare Zeno Black Rift Una combo Allucinante Prima di arrivare Al Vegito Super Saiyan Vegito blu Addirittura Cioè Ci ha dato praticamente La roba Forse meno Meno spoilerabile Di sempre Andiamo Vai Quindi posso dire Ho beccato il personaggio D'ability Forse Quello lì Che più non si sa Come Come buildarlo Con la finish Io sono Squalad Squalad Ok Squalad Però con le skill orb Non lo so Le hanno messe a disposizione Alla fine Quelle Quelle Cioè le skill orb Come si dice Specifiche Le hanno messe Sì sì È super equilibrato Sono quelle là Su add crit No? Quelle lì add crit Hanno messo Cioè tipo 4-4 Una roba del genere Bravo Ok perfetto Perfetto Eh va bene Però per il resto Si vede Sivaldo Facciamo delle valutazioni Sì però pure io Forse sono più Scuola crit Cioè andrei Forse un po' Di più Verso il critico Perché vabbè L'add È fantastico Però Dà magari punti Di più A fare quel critico Bello pazzo Si ripeto Ragazzi è un problema Che si pone Relativamente poco Perché è sempre Super efficace Lui praticamente Quindi Allora Perfetto Questa multi Totalmente Proprio da dimenticare Signori L'ultima Con queste 8 stone Proprio ce ne mancava una Per fare le 7 Vai Ma c'è un po' Così da solo Se stava Satan Eh beh Sicuramente Ok Kameame Vediamo Se chiudiamo Proprio In Discesa Tra virgolette Ma in discesa All'opposto Cioè in discesa Nel senso proprio Scendendo di livello Vediamo Io vi do però L'ufficialità Dopo queste multi Se fa una cosa Si va subito Nel Baba Shop E si va A prendere Broly Tech Che è stato Realmente L'unico personaggio Che veramente Mi ha shaftato Di questi KK Tutti gli altri Trio Tranquillissimo Trio 200 250 300 stone Trovati Broly Int 150 Gohan Impazzito 150 Più di Get Ability 1 Il prossimo Passaggio è Andare a Prendere Broly Ok Che è L'unico Mancante Praticamente Quindi vado A prendere Broly A posto Quindi allora Facciamo un attimo L'appello Aspettate un attimo Broly Tech Broly Int Gohan Perché non vedo L'altro Ah eccolo Gohan 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 STR E E vabbò Il trio Che già c'avevo Eccoli qui Perfetto Celebrazione Masterata Sì Fortunatamente Sì